alla fine della sessione mattutina per lo meno intanto comincio da una richiesta oggi la discussione ha coinvolto riflessioni su welfare a riflessioni sui momenti incendio e sono tutti problemi che esistono e sono anche legati uno all'altro se c'è disponibilità, penso che ci sia io vorrei che queste discussioni riuscissimo a farle anche prendendo un pezzo per volta sapendo che sono collegati ma parlandone a fondo perché confesso che è una tentazione ma anche una difficoltà che ho in questo momento è che vorrei parlare di una quantità di cose diverse che ne sento la necessità sento io la necessità del confronto come mi pare che la sentiate voi e non credo di riuscire a farlo in un tempo umano non è un modo ordinato per cui devo andare a pescare delle cose comincio da quelle più pratiche poi magari vi dico qualcuna un po' più di quadro il tema della continuità è un tema questo il tema rischia lo stesso il tema della continuità è un tema di cui solo siamo perfettamente consapevoli ed è fondamentale tant'è che nella fase che ha portato alla faticosa approvazione del bilancio del Comune di Roma che comunque al di là di tutte le polemiche è stato il primo ad essere provato nelle grandi città in Italia uno dei temi per l'accelerazione era esattamente quello di darci strumenti per avviare non in dulcesi di ingestione ma con la continuità triannale le attività e la famosa delibera discussa di riorganizzazione che però prova a ricostruire un ponte tra i teati cosiddetti chiamati una volta cintura poi in Comune e il teatro di Roma è inclusa in questa delibera nasce esattamente la necessità da un lato di provare a mettere ordine a uno scenario che è un disastro di disordine se non fosse altro poi non è solo disordine perché i problemi che ha raccontato Antonio del custode in cima al teatro sono moltiplicati per un milione in tutta la città sul qualunque cosa ma è quello di consentire di agire con gli strumenti che abbiamo a disposizione di dare tempo tant'è che noi stiamo lavorando e dobbiamo provare entro marzo a tutti i contatti di servizi dell'azienda che sono almeno triennali e dare gli strumenti al teatro di Roma per fare gli avvisi sui teatri in modo che siano triennali o possibilmente stavano cercando di capire se si faceva quinquennale o quesennale perché il problema non solo della legacy cioè della continuità istituzionale ma il problema di un'attività culturale che non può svolgersi in particolare con un rapporto con un territorio che non può svolgersi con una programmazione è un problema fondamentale ora questo cioè l'assenza di queste condizioni non è solo dovuta non è stata solo dovuta a problemi di bilancio è stata anche dovuta a una secondo me profonda incomprensione della funzione che la cultura svolge nello sviluppo di una città relegando la vita culturale a un elemento del modello economico io sono totalmente d'accordo e vorrei che fosse del tutto chiaro che nel dibattito che si fa anche in consiglio comunale io sono sistematicamente e penso che alla fine otterrò il risultato un sostenitore fermo che il patrimonio indisponibile del comune di Roma serve per assicurare che vengano ascolte funzioni sussidiare dell'interesse pubblico e che questo significa l'identif sussidiare vuol dire che fanno parte dell'interesse pubblico nel comune tra questo c'è la vita culturale fondamentale la vita associativa e che le interpretazioni che sono state reale anche nelle bozze di regolamento preparate dagli uffici del comune di Roma che dicono entro nel dettaglio ma è importante loro dicono patrimonio essenzio articolo 119 della costituzione il patrimonio serve per garantire dell'equilibrio economico del comune non dice questo la costituzione ma la corte dei conti dice questo la corte dei conti dice questo e lo dice impugnando tutte le situazioni che decenni di essenza di governo hanno generato in modo tale che la corte dei conti possa impugnare il problema che esiste oggi su fortissimo di anche di è un confronto non è non è inerzia è un confronto tira e molla ogni giorno con 70 soggetti diversi e che l'assenza di un'interpretazione del patrimonio pubblico come strumento fondamentale di costruzione della trama sociale della città ha prodotto la gestione del patrimonio pubblico per relazioni o meno informali o concessioni verbali o qualunque altra cosa che crea dei presupposti di illegittimità delle assegnazioni su cui agisce la magistratura qual è il problema è che siccome in questo paese noi abbiamo fatto per decenni finta che non esistessero le norme oppure abbiamo talmente tante che abbiamo interpretato a seconda del caso siccome prima gli organi preposti all'amministrazione giudiziaria non intervenivano sul corpo amministrativo tutto si faceva adesso che cosa succede? succede che la magistratura contabile emette degli ordini perentori che non arrivano ai soggetti politici arrivano ai dirigenti a cui la Bassanini e le leggi seguenti hanno attribuito responsabilità specifiche di gestione in cui dicono guarda che tu quel fabbricatore lo devi sgomberare e siccome quel fabbricatore perché quello non ha più una concessione valida e dal momento in cui quello non ha una concessione valida allora tu devi recuperare il camion che non è stato pagato dal momento in cui la concessione è valida nel valore del 100% di mercato se non lo fai io perseguo te questo è il meccanismo vorrei che fosse chiaro e questa cosa non è diciamo è assai complicata tanto complicata ed è il prodotto di un'assenza di governo che questa città ha dagli inizi dell'anno 2000 sottoscrivo in cui con la tesi del modello Roma si è deciso di farla funzionare sotto un principio di grande marketing e anche dell'idea che quello fosse un volano economico con una gestione assolutamente riformalizzata allora lì il passaggio fondamentale su cui stiamo lavorando ma guardate sono anche battaglie nel senso che per fare queste cose qua significa che uno non solo convince la politica i numeri eccetera ma che deve trovare il consenso dei dirigenti della pubblica amministrazione perché loro devono mettere le firme su degli atti di cui sono responsabili la produzione di un regolamento della gestione del patrimonio in cui il principio di sussidiarietà sia il principio fondamentale in base a cui viene gestito il patrimonio disponibile il patrimonio disponibile vuol dire quello che non si può vendere e allenare che è gran parte di quello che oggi è utilizzato o assegnato da soggetti che oggi non hanno più assegnazioni ma che sono soggetti che hanno svolto una funzione di presidio culturale del territorio fondamentale questa è una battaglia mia è una battaglia di chi fa l'assessore della cultura non mi aggiungo a Berga o di chi sta in quella posizione oggi se no vuol dire che non capisce di chi sta parlando sul tema di cultura ma è una battaglia non è l'esercizio di una volontà politica astratta è un processo terribilmente complicato su cui ogni centimetro si guadagna un pezzo e si fa un pazzo tanto un pezzo tanto questo ovviamente è accentuato dal fatto che ci sono tensioni politiche di sottofondo ma non è solo questo è il prodotto di un'assenza lo dico perché io sono peraltro consapevole che quello che viene urlato come illegalità nel 90% dei casi non è tale anche perché esiste un accadastamento di rapporti formali informali che crea delle situazioni paradossali che ci sono e conoscete benissimo e che ci sono soggetti che hanno continuato a pagare i carni che il comune non chiedeva attraverso un concessionario senza che la concessione venisse rinnovata poi interviene la corte dei conti e dice magari la concessione non era rinnovata quindi quello lo devi sgomberare ma siccome la concessione era rinnovata doveva pagare il 100% non solo devi sgomberare gli devi chiedere tutti gli arretrati dal momento zero allora di chi è la colpa là dentro e di chi stava dentro di chi pagava di chi fece l'attività del comune del comune no sono fatto in questa roba eh ero certo non c'è dubbio sto dicendo questa cosa qua io sto dicendo che c'è una responsabilità di fondo dell'amministrazione comunale che si è sottratta alla responsabilità di fare assegnazione del patrimonio e questo crea ovviamente una situazione di ingiustizia reale perché dopodiché il magistrato la legge in un altro modo ci sono questi tiani si sovrappongono l'uno all'altro lo racconto perché secondo me è importante capire con tutto il livello di confronto critico diolettico positivo positivo quello che si vuole ma a capire dentro quale anche scenario tecnico ci si muove perché dico questo perché ci aggancio una cosa un po' più generale e cioè noi abbiamo prodotto attraverso una serie di scelte in questo paese una distinzione teoricamente netta dalla funzione politica alla funzione amministrativa e la funzione dell'autorità giudiziaria la realtà è che oggi esiste un livello di separazione tra la funzione politica e la funzione amministrativa in termini di competenze che riduce al di là come dire secondo me mettendo in discussione l'esercizio della funzione politica la capacità della funzione politica di agire sulla funzione amministrativa quando ci sono i dirigenti che compiono gli atti per esecuzione dell'autorità giudiziaria senza informare l'organo politico perché questo è leader amministrativo noi stiamo sottraendo il processo sta sottraendo all'autorità politica la legittimità di intervenire con gli strumenti propri dentro quella cosa lì questo problema è un problema che si sta aggravando per effetto delle norme perché le norme anticorruzione o l'interpretazione delle norme anticorruzione spinge sistematicamente in quella direzione come se il fattore che ha prodotto anticorruzione nel paese che c'è ed è pesante in questa città particolarmente pesante fosse solo il prodotto di una interferenza della politica nella vita amministrativa non è così anzi il problema se vogliamo oggi è il contrario è esattamente il contrario e quando si parlava di bandi una continua parlando tecnica e poi rispondo a tutte le domande noi abbiamo fatto un processo partecipativo per discutere cosa fare nell'agra fatto bene fatto male si può discutere con l'agra ma c'era una decisione una scelta che riguarda il fatto che quello è un bene sottratto dalla mafia e quindi deve essere utilizzato in un certo modo abbiamo fatto un processo partecipativo abbiamo raccolto una serie di osservazioni abbiamo deciso che quel luogo lì deve essere un luogo in cui l'elemento economico non è prevalente nel modello di gestione e questo c'è una serie di conseguenze anche sul fatto che noi ma il problema complicato è che l'ANA anche dell'autorità nazionale anticorruzione emana norme su meccanismi con cui si debbono giudicare le cose che vengono valutate in cui chiede indicatori oggettivi frammentati che vuol dire indicatori frammentati tu mi devi dire oggettivamente che se fai spettacoli addentro quello che conta è che sono 105 non se sono 53 75 o che cosa fanno sono 105 il modello economico il modello organizzativo scegliete quando noi dobbiamo invece costruire un rapporto di sussidiarietà il tema non è la massimizzazione di ciascun dei parametri ma è la coerenza del progetto nel suo insieme perché io devo poter valutare soggetto pubblico se quella logica di programmazione quel modello organizzativo quel modello finanziario si reggono insieme e soprattutto se dico che il modello finanziario è subordinato al fatto che ci sia una dimensione sociale di apertura del posto non posso essere costretto a giudicarlo in base al fatto che chi mi ha presentato il modello finanziario è migliore di quell'altro perché se no non riesco a farlo queste cose cascano cascano nella cosa quando voi dite dicevi panici fuoco ferro non è fuoco e ferro ma una voce politica che non è solo dei soggetti politici ma è dei cittadini e degli intellettuali che interviene su questi temi qui facendo politica la politica non è solo verso l'amministrazione rispetto a tanti soggetti al ministero nel dibattito pubblico perché nel dibattito pubblico le cose vanno dette e difficilmente si riesce a dirle scrivendo parlando lo stiamo facendo qui insieme oggi ma io sto qua non ci stanno gli altri io ci sto con tutta la responsabilità dell'esserci del dire cose sgradevoli convincenti non convincenti quindi questa alleanza serve alle istituzioni lasciamo perdere le istituzioni come soggetto più alle istituzioni che vogliono fare un certo tipo politica perché le istituzioni che vogliono fare quella politica da soli non hanno tutti gli strumenti per farla in più ovviamente c'è una situazione di confusione politica generale anche dal punto di vista dei valori vero che ha bisogno dell'emersione di una voce intellettuale che non si è sentita in questa città io scusate l'ho detto una volta lo ripeto quando io ho fatto non c'entra con il dibattito ho fatto la discussione con Franceschini sulla questione dei fogli che sta parlando esattamente dello stesso tema non si è alzata una voce non si è alzata una voce ha scritto Settis ha scritto Tommaso Montanari forse Sergio Rizzo non ci ha messo il suo fine quella è una discussione che ha esattamente a che fare con no perché il modello che Franceschini impone lì è un modello in cui l'elemento prevalente è la massimizzazione del profitto e dall'uso dei beni culturali alla città il modello di cui io discuto è che l'uso del patrimonio nella vita culturale alla città è un elemento di riempimento del capitale sociale e della capacità di sviluppo della città e chi cazzo le vanno di queste cose qua? serve la voce non serve in questo dibattito io sono stracontento che vi avviate chiesto e mi sento incapace io per non averlo provocato direttamente ma serve anche fuori da una serie di questo genere e chi dice non solo il teatro ma in generale la cultura dice bene c'è un problema profondo di rendere esplicito che la partecipazione alla vita culturale dei cittadini dovunque non sono negli spazi fisici centrali e qui torna tutto il tema del patrimonio è una condizione fondamentale per la nostra società per uscire dal casino dal budello in cui siamo infilati che è il crollo del welfare in un certo momento storico questa discussione che è interamente politica e richiede un livello intellettuale forte va fatta va fatta su tutti gli strumenti pubblici non può essere che la discussione sia sempre a porta la cosa ci sono tutte queste cose qui ma dobbiamo provare a fare un'altra io sono integralmente disponibile credo che abbia dato ogni dimostrazione a farla questa cosa a sostenerla anche con atti amministrativi con atti politici mettendoci la faccia a loro ma certamente non può essere rimandata questa cosa serve di nuovo una forte presenza politica delle persone nel mondo della cultura è fondamentale se il fatto che voi lo facciate oggi in questo modo secondo me è un fatto grandemente positivo grandemente positivo e se con tutta l'autonomia di farlo nel voto in cui lo vuole fare separatamente dall'istituzione e via discorre ma se volete costruire un meccanismo permanente strutturato con dei cibi di dialogo con l'istituzione io ci sto vorrei che questo fosse assolutamente però un modo di farlo che sia sostenibile perché ci sia un problema di sostenibilità per voi ma esiste anche dal lato nostro se questa è la sede in cui si può fare civicamente una cosa di questo genere è una bella sede noi stiamo lavorando la trasformazione contemporanea e penso che il macro per come lo stiamo concependo potrà essere un'altra sede che ha certe caratteristiche una parte del mattatoio però questo esercizio dargli continuità alla struttura non istituzionalizzandolo perché se istituzionalizzandolo diventa un affare in cui non siamo più stessi aprendolo io ci sto creiamo una camera di discussione sì ci sto io lo desidero ne ho bisogno ne ha bisogno di istituzione è giusto ma appunto siamo pari e c'è la domanda che c'è di questa noi siamo quelli dati che lei lo desideri ma le possiamo fare cioè si può fare si può fare si può fare allora scusate perché non lo proponete eh ho capito lo devo proponere io io ci sto discutiamo ne parliamo facciamo io non ho nessun problema io non ho io non ho nessun problema ma voi perché ci sono anni che mettiamo questo a disposizione o voi se li ha io ho i miei perdonami voi siete anni io l'ho fatto come dire ho provato a farlo tanti anni fa io non sono anni che sto qui sono alcuni mesi che ho una funzione che cerco di esercitare negli spazi e nell'ambito di questa funzione che non ho mai avuto prima sto dicendo una cosa poi su scusate sul teatro e l'orologio ci sono una serie di domande specie che sono state fatte sul teatro e l'orologio allora il teatro e l'orologio non andavano chiuso l'hanno chiuso i vigili del fuoco mandando un'ispezione i vigili del fuoco questura e spettolato del lavoro perché ci sta evidentemente un accelerazione dell'attenzione da parte delle istituzioni e di vigilanza nei confronti degli spazi non ritengo che l'interpretazione data all'uso del patrimonio dagli uffici del Comune di Roma sia del tutto estranea a questa cosa qui non la posso neanche provare al contrario però certamente il fenomeno c'è dopo dico qual è il problema è che istante le norme vigenti e sono norme cervellotiche quindi c'è un altro livello di discussione il teatro e l'orologio non ha le condizioni di sicurezza norme di legge non è illegale no c'è perfettamente ragione quindi quella autorità lì che è preposta a dire se ci sono le condizioni di sicurezza ti dice non ci sono le condizioni di sicurezza e ci mette un sigillo che cosa facciamo noi abbiamo cominciato a lavorarci prima su altri su altri problemi di funzionamento del teatro e l'orologio che con Emiliano abbiamo cercato di risolvere esminando cose adesso noi abbiamo chiesto alla sovrintendenza di Stato di lavorare con noi e con il teatro e l'orologio per capire in che modo la sovrintendenza di Stato perché quello è un bene vincolato perché sta sotto l'oratore Filippini Borromini e ci sta un pezzo di una scala che è sottoposto a vincoli fare in modo che il progetto di messa a norma delle uscite di sicurezza sia approvato alla sovrintendenza di Stato la sovrintendenza di Stato dice a meno mi hanno mai mandato un progetto lo so ti sto dicendo quello che ti contro non sto dicendo però nulla che noi potessimo approvare noi questo lo stiamo facendo Carbi ha dato una disponibilità temporanea noi stiamo cercando di trovare una soluzione per far continuare l'attività e allo stesso tempo c'è stata una riunione l'altro ieri nei miei uffici in cui abbiamo fatto venire la sovrintendenza di Stato per parlare di questa roba sono tutte così sono centinaia in assenza di un quadro dentro cui muoversi è evidente che chi fa delle norme continua a fare norme sulla sicurezza prescindendo dal fatto che queste si aprino su spazi che stanno all'interno di fabbricati storici crea una situazione di inagibilità il problema del teatro valle al netto di tutto è esattamente lo stesso genere perché secondo la norme sicurezza tu dovessi allargare le porte del teatro valle ma è così e la sovrintendenza ti dice no le porte del teatro valle ma le può allargare stai scherzando quello è un bene del 1700 che faccio tolgo le porte allora che cosa succede che qualcuno fa una scala da una parte non la registra il catastro per dieci anni noi proviamo a rimettere insieme tutte le cose scopriamo che il catastro del teatro valle c'è l'ultima mappatura catastrofe del teatro valle del 1949 quindi tutti i lavori che sono stati fatti dentro il teatro l'etino chiunque non l'ha mai scritto da nessuna parte e se tu non hai scritto da nessuna parte la commissione di pubblico spettacolo non ti dà le autorizzazioni quindi devi andare a capare tutta questa roba in giro sembri schlima la troia non cercando nei cassetti di qualità per riuscire a raccogliere gli elementi che ti consentono di prendere in possesso il teatro perché se non prendi in possesso se non hai gli elementi non lo prendi in possesso non puoi spendere solo i soldi per mettere a posto che lo stesso comune prima ha scritto che avrebbe messo in bilancio ma non senza avere in possesso qui la verità è che chi ha governato questa città ha fatto una quantità di cazzate che non ci si crede non ci si crede in totale noi stiamo giuro noi stiamo facendo un lavoro folle per cercare di recuperare tutte quante qual è il problema grosso che vivete voi e che io vedo è che naturalmente secondo noi veniamo succhiati da questa roba diventiamo totalmente incapaci di confrontarci su questo terreno di confrontarci non di cercare soluzioni ma di confrontarci per fare per distribuire soldi in un modo anche attraverso contributi per cui io ho chiesto delle dotazioni in bilancio e ci ho messo un po' di soldi che non c'erano nel bilancio noi abbiamo un altro problemino è che il regolamento dei contributi del Comune di Roma risale all'anno domini 1980 non so che cosa e quindi quello non solo più non è a norma delle leggi successive regole e contributi ma crea dei meccanismi per cui se tu benefici di uno spazio che non puoi avere i soldi devi rendicontare in un modo è un delirio quindi abbiamo finalmente riscritto il regolamento dei contributi che spero riuscire a portare in Consiglio Comunale molto rapidamente e nel frattempo abbiamo costruito dei bandi che sono per l'estate e per l'autunno cioè quindi non limitarci semplicemente al pezzo dell'estate abbiamo distinto tra l'estate e l'autunno perché per l'estate vogliamo lavorare soprattutto sugli spazi aperti ci sono criteri differenti poi lasciando la possibilità di presentare ipotesi annuali e triennali cercando di incentivare la distribuzione sul territorio della città perché un problema è di portare la vita culturale di opportunità di partecipazione culturale anche fuori dagli spazi classici e in modo tale che possono essere presentati progetti di natura annuale o di natura triennale su luoghi che sono già identificati e certificati perché poi c'è il problema di certificazione dei luoghi ma anche su luoghi che sono individuali e altri che vengono proposti questi bandi sono più o meno in fondo e spero di riuscire a pubblicarli cioè spero devono essere pubblicati in un mandato pubblicato pubblicato entro il mese di marzo da lì verranno un po' di risorse a questo concetto stiamo parlando sempre di dimensioni un milione e mezza due milioni di euro che sono questi due anni di grandezza non sono grandi cifre ma sono le grandi cifre che ci sono oggi permesse dal fatto che il 92% del bilancio del Comune di Roma a tirà culturali è assorbito dal fatto che a partire da quegli anni lì purtroppo c'è una differenza uno evoca Nicolini ma Nicolini non aveva 14 istituzioni culturali di partecipare il Comune di Roma oggi ce ne ha 14 che si assorbono il 92% del bilancio il che vuol dire che la parte restante va a coprire tutto il resto ora e vuol dire che scusi se anche rompo e vuol dire che proprio che e lo so che non è quella sua che agli artisti non rimane niente no lo so scusa non lo so non lo dico scusi dovevo intervenire non avrò spazio volevo solo dire questa breve cosa è che di fronte a questo castello caschiano che si no ma lo stiamo smontando il castello caschiano no lo so volevo fare presente che vengono raggiare con dei mandi dei microfinanziamenti no scusate Villa Torlonia perché se fosse letto al libro 126 si è scoperto che Villa Torlonia e Santa Rita rientrano negli spazi che vengono al cui coordinamento è conferito al Teatro di Roma a partire dal momento in cui questo entra in pregore quelli c'erano c'è quello un bando che chiude gli ultimi mesi e poi passa la gestione al Teatro di Roma e decorre dal primo di aprile il primo bando era a giugno tant'è che noi gli abbiamo scritto come facciamo una cosa senza ricevere mai risposta a qualcuno non rispondiamo è vero rispondiamo a tantissimi a qualcuno non lo so e pretendevamo una risposta e sa in domenica in più non abbiamo ricevuto in più non abbiamo ricevuto risposta e lo abbiamo rivisto uguale a prima ripetitata ci prende un colpo perché se alle compagnie di questa città chiedete vi danno le sale gratuite no però scusate sicuramente non lo sai cosa vuol dire si chiedono le sale vi danno le sale gratuite in cambio di biglietteria a pagamento agibilità con tutto tutto a pagamento se hai un pagamento della compagnia assicurazione dello spazio assicurazione dello spazio per un valore di un milione di euro di che stiamo parlando stiamo parlando perché il meccanismo lì non esiste più a decorrere a prima di aprile perché il primo di aprile ma intanto c'è e noi abbiamo chiesto di fermare questi bandi scempio ve l'abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere come sono bandi scempio si può se non funzionano si possono abrogare dicendo che dal primo d'aprile non è più io direi scusa no ma più che altro magari non è prevista pensando neanche la biglietteria cioè tu con chi puoi vendere biglietti allora ragazzi cerchiamo di fare un ordine perché le questioni sono tante e effettivamente io se voi siete d'accordo potremmo anche trasformare la seconda parte diciamo di questa giornata in una serie di proposte che possono essere stilate e raccolte dal documento che diceva a Didio Scattellini e farei finire Luca Bergamo chiaramente che ha poco per il gruppo no io mi sono lungato ma sto cercando di dare insomma siccome sono tante le questioni chiaramente nelle varie riforme trasformazioni interne che non si vedono noi abbiamo costruito una direzione per riformare l'ufficio spettacolo perché l'ufficio spettacolo come Roma ma come l'ufficio cinema sono due strumenti di impedimento dell'attività questa cosa qui è in corso è stato insegnato inserita una vita organizzativa con un dirigente per fare questo cosa c'è un obiettivo per completare questa trasformazione entro la metà del semestre del secondo semestre ci sono passaggi sono lenti infinitamente lenti ma questa è una lentezza che sta dentro l'amministrazione io inviterei veramente chiunque a passare tre giorni là dentro forse tre giorni non basta no perché le agevolazioni fiscali che sono un tema un tema vero segnavo che quest'anno c'è stata una discussione in cui io sono risultato perdente ma per ragioni di fretta nell'approvazione del posto del bilancio e cioè che si era creato lo spazio per una minima riduzione della taglia piccola è stata la scelta alla fine grazie è stata la scelta alla fine di fare una redistribuzione Erga Omes invece di fare come proponevo io su attività di pubblico spettacolo e librerie per in realtà ragioni di rapidità del procedimento che era io sono piuttosto fiducioso siccome il tema è stato discusso che dal bilancio dell'anno prossimo sia possibile introdurre delle riduzioni della fiscalità specifica che sta a carico del comune per le attività di pubblico spettacolo per le librerie vorrevo capire anche per le serie cinematografiche dentro certe caratteristiche certi limiti però di nuovo queste discussioni qui che se mi sembra facili lo dice lo vuoi fare poi lavori con il comune che c'è un bilancio in dissesto non è bilancio in dissesto io vorrei per approvare il bilancio noi abbiamo voluto diciamo riconoscere perché questa è stata un'osservazione che ha fermato la discussione di bilancio 113 milioni di euro di debiti fuori bilancio debiti fuori bilancio sono spese che sono fatte dall'amministrazione per ragioni e non vengono proprio scritte nel bilancio quindi li dai a debito in cui la gran parte era lavori di sommurgenza cioè vuol dire interventi di messa in sicurezza di edifici fabbricati mascherati da tali perché non si fa manutenzione né ordinaria né straordinaria da anni e quindi il teatro di Roma ha il problema di manutenzione straordinaria del teatro di Roma è il pazzo di esposizione della facciata qui come si recupera lo spazio da fuori dove si trovano i soldi e da costi di utenze la CEA e ATAC per decine di milioni che sono stati falsamente non iscritti nel bilancio del Comune di Roma ma iscritti nel bilancio delle società controllate che poi sono state approvate dal Comune di Roma quindi che faceva? chi approvava il bilancio del Comune di Roma diceva che quei soldi non c'erano quei costi poi si spostava si sedeva nel Consiglio di Amministrazione della CEA e diceva il Comune di Roma mi deve dare 50 milioni quindi lo scriveva nel bilancio del Comune di Roma tornava di qua andava in assemblea capitolina e diceva ho approvato il bilancio di ACEA peccato che tra il bilancio del Comune e il bilancio di ACEA ci stavano 30, 50, 70 milioni questo produce sul Comune una situazione devastante di cui giustamente siano occupate tante modalità questo per dire che tutte queste cose che sono piccole fare delle riduzioni di contribuzione di carico fiscale sulle associazioni che sono numeri piccoli si scontrano con il fatto che ci sono dei numeri giganteschi che nessuno ha presidiato quindi anche queste sono discussioni avere un'interlocuzione degli interlocutori politici che domandano domandano in politica aiuta nelle discussioni interne perché finisco non ho risposto neanche un decimo che volevo rispondere perché per anni per anni il tema cultura che è stato percepito come un elemento del prodotto interno lordo ed è stato argomentato dal mondo culturale come un tema del prodotto interno lordo è scomparso dalla discussione e nel momento in cui nel 2007 è cascato tutto il castello su cui si era costruito la distribuzione dei soldi con cui anch'io potevo fare enzimi le cose perché c'era un meccanismo di indebitamento a cui abbiamo partecipato tutti quanti più o meno inconsapevolmente e quello che è successo è che le spese culturali sono state tagliate immediatamente a livello degli stati ma il problema è che sono stati tagliati da sferimenti dagli stati agli enti locali massicciamente cosa che non si è vista e questi tagli sono andati sistematicamente in prima istanza sulle spese per le attività culturali considerate non fondamentali perché oggi è il 92% il costo delle istituzioni culturali era sei anni fa il 75 eppure si figliavano più soldi perché il meccanismo è che nella negoziazione interna la politica culturale o quella che io chiamo crescita culturale perché non è una politica è l'emancipazione umana non è considerata non è stata considerata come un elemento fondamentale dello sviluppo perché se ha legge in chiave il prodotto interno lordo non è fondamentale diventa l'industria creativa e nel teatro l'industria creativa non ci sta l'intero settore culturale si è agganciato a questa roba dell'industria culturale e creativa per dimostrare che era capace e si è fatto un autocolo stratosferico perché ha cancellato la dimensione sociale della partecipazione alla vita culturale noi stiamo facendo esattamente il contrario in questo momento tutti i singoli atti incluso il modo in cui abbiamo concedito strutturalmente il Capodanno anche con i difetti di quello abbiamo fatto sono tutti atti in cui l'elemento del ciclo economico non c'è e c'è l'elemento di ricostruzione di partecipazione cittadina e collettiva quello che stiamo facendo è gravemente insufficiente rispetto alla realtà è gravemente insufficiente ma è la prima volta che in questa città ci si prova a farlo in questa chiara dai tempi di Nicolini ma in una società che è completamente diversa da quella di Codello questa roba cioè leggere i singoli passi con tutte le carenze perché diciamo tutte le carenze che voi e tutte non tutte molte delle carenze che voi avete segnalato ci stanno ma stanno dentro questo tragitto e per colmare quelle carenze noi ci abbiamo io personalmente e chi amministra con me abbiamo bisogno di una interlocuzione forte politica anzi della cultura con la politica ma su un terreno il più alto possibile scusate la lunghezza allora dobbiamo dire volentemente sicuro io direi raccogliamo raccogliamo anche la provocazione che ha fatto lui da Bergamo rispetto agli intellettuali di portare il discorso a un piano più alto e di portarlo anche a un piano comunicativo però direi che poi l'istituzione comunale deve anche cercare non soltanto di dialogare ma di portare questo discorso a un piano nazionale perché se il comune non agisce in questo senso Luca permettimi se faccio questo noi possiamo anche rivederci tra tre mesi noi stessi noi quattro possiamo prenderci la responsabilità di segnare le domande e gli interrogativi che questa assemblea continuerà a fare nel pomeriggio e consegnarle all'istituzione comunale però poi l'istituzione comunale dovrà a sua volta e penso dovremmo farlo insieme portare questo dibattito a livello nazionale perché se non portiamo il dibattito a livello nazionale non andiamo da nessuna parte scusate vorrei aggiungere un po' così emotivamente qualche considerazione voglio sicuramente ringraziare l'assessore perché appunto è qua a livello nazionale e ci invita la discussione però purtroppo devo dire Luca che temo che queste tue risposte siano insufficienti per questa scuola mi spiace che volevo dire mi spiace per fare questa parte ma credo che capiamo benissimo e devo dirti siamo con te siamo con te in quello che stai facendo e possiamo essere ancora di più con te però forse i problemi sono più urgenti e più seri per ciascuno di noi tutti quelli che sono seduti qui in questa sala non so quante domande ulteriori potranno farti perché poi le domande lasciano il tempo che trovano però credo che veramente questo tavolo sia di discussione che tu proponi e che noi accettiamo tutti noi ma sia urgente deve essere concreto fattivo immediato rigoroso e devo avere delle risposte perché purtroppo sai tu vieni da questo mondo lo conosci l'hai visto l'hai frequentato purtroppo tante volte la politica è venuta in queste assemblee a fare promesse a fare considerazioni a spiegarci il grande labirinto che c'è sopra la nostra testa però noi questo labirinto lo possiamo anche percorrere e affrontare non so come dobbiamo trovare uno strumento possiamo farlo oggi pomeriggio come diceva Graziano possiamo veramente concretizzare qualcosa ma penso che questa tua disponibilità debba essere fattiva immediata concreta e reale e reale se metti in discussione la realtà io mi alzo me ne va no no non metto in discussione non metto in discussione il labirinto della burocrazia della politica e dell'amministrazione che ci hai tratteggiato ma appunto se le cose sono così non è detto che non cambino tu stai provando a cambiarle noi siamo contenti questa cosa siamo convinti che tu stia agendo per il meglio però forse servono risposte imbediate anche da parte di questa assemblea che non deve avere paura di fare domande che non deve avere paura di esporsi altrettanto come ti stai esponendo tu posso dire una cosa non so dal punto di vista di struttura non so se l'assessore se Luca Bergamo sta effettivamente andando via se non è così io proporrei di mandare un po' avanti la pausa invece di continuare un po' a discutere se c'è qualcuno per assolutamente sì abbiamo diciamo grazie